Allora Torelli che era un vecchio antifascista, era perseguitato, aveva fatto il carcere eccetera ed abitava in casa mia, viene e mi diceva Anita devo dirti alcune cose dice quello che state facendo perché lo facevo io Maria Montanari, mia cugina cioè poi eravamo anche in un gruppo di amiche abbastanza forti, abbastanza combattive eccetera cioè che eravamo amiche ma avevamo le stesse idee, lo stesso modo di concepire la vita e dice quello che avete fatto fino adesso è molto importante, che ci avete anche sorpreso perché già era uscito il proclama dei tedeschi che diceva che chi aiutava i renitenti e la leva e i soldati a scappare venivano condannati, campo di concentramento o fucilazione cioè non era capissi una punizione blanda quella che ti promettevano dice voi dovete cercare di portare fuori tutto quello che può servire a un esercito clandestino perché la nostra intenzione è di mobilitarci come popolazione cioè di mobilitare la popolazione a combattere e a scacciare i tedeschi e i fascisti che stanno rialzando la testa di scacciarli e di mandarli fuori da Italia per cui abbiamo cominciato a portare fuori la roba però prima di dirvi come portavamo fuori la roba vorrei dirvi un fatto che è avvenuto che per me ha stato direi l'elemento determinante nella scelta di continuare questo lavoro e di partecipare alla guerra di liberazione io suona l'allarme ma tre o quattro giorni dopo l'8 settembre suona l'allarme scappiamo in bicicletta dopo un po' non si sente niente torniamo a casa cessa anche l'allarme e torniamo a casa come arrivo in via d'Almazia all'inizio perché scappavamo sempre verso Codemando o verso la Canelina come arrivo all'inizio di via d'Almazia dove abito io c'è tutta l'SS che piantona le case io arrivo davanti a casa mia volto e sono in bicicletta volto però davanti a casa mia c'era una lo chiamavamo la reggia perché era tutto l'astricato dove noi mettevamo d'estate i tavoli con le sedie eccetera c'è una formazione tedesca con una mitragliatrice Al e io dico casa mia io casa mia io casa mia e quello Al Raus io che non capisco un H di tedesco però Raus voleva dire toglierti dai piedi cioè va via capisci e io continuo ma io casa mia pare da mangiare i miei fratelli e lui Raus Senti e mi punta il fucile allora io quatta quatta torno indietro con la mia bicicletta e incontro la Maria che su per giù ha avuto la stessa cosa Senti è stato un momento non è la paura del fucile ma in quel momento ti sei resa conto che tu non vali niente che uomini in divisa che sembravano tanti scarafaggi in divisa che parlano una lingua che tu non conosci perché non sono nemmeno del tuo paese hanno non solo il potere di impedirti di entrare in casa ma hanno anche il potere di ucciderti per cui tu sei niente nei confronti di loro per loro vali meno di un insetto vada che è una cosa terribile ecco cioè forse non eravamo preparati a queste non eri preparata a questo però è la reazione di una ragazza di pochi anni che già ha sofferto bombardamenti ha sofferto vedere i soldati presi fatti prigionieri fatti prigionieri i nostri uomini anziani che avevano fatto la prima guerra mondiale che dicevano ma se li portano in campo di concentramento che io papà diceva mio fratello ci dovevamo sempre mandare da mangiare perché se no lo facevano morire di fame questi che sono delle belve chissà che cosa gli fanno ecco capisci bisogna cercare bisogna cercare di aiutare cioè di fronte a queste cose che ti fanno soffrire maledettamente perché in definitiva sono dei ragazzi come te che non hanno cioè non sai qual è il loro futuro cerchi di aiutarli e metti in pericolo anche la tua vita per aiutarli noi andavamo per la strada quando vedevamo un soldato lo accompagnavamo fuori dai posti pericolosi perché c'erano ovunque i posti di blocco capisci addirittura gli uomini i nostri uomini anziani con le biciclette le mettevano sulla canna e cercavano di portarli perché andavano a piedi poveretti no ecco li cercavano di portarli capisci per un periodo di strada per un percorso di strada che potessero almeno riposarsi ed essere fuori ed essere fuori dai pericoli ti trovi di fronte a questa realtà che ti colpisse immediatamente ecco ti rendi conto che veramente è una cosa orrenda ecco qualche cosa di terribile che ti colpisse e ti rendi conto quanto sia valido ciò che ti hanno detto gli antifascisti perché fino a quel momento come dire non era la ragione politica che ci portava a salvare i ragazzi eccetera era più l'umanità capissi tu donna salvi il figlio di un'altra donna era questo che ci spingeva capissi anche a incorrere in fatti pericolosi ma da quel momento ti rendi conto ecco che deve essere qualche cosa di consapevole ecco per cui io non mi sono più ritirata nei confronti di tutte le cose che mi chiedevano di fare che mi chiede